Nobella per la letteratura al giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro e anche quest'anno la Reale Accademia di Svezia spiazza un po' tutti con le sue scelte, dopo Bob Dylan l'anno scorso. La motivazione è che nei suoi romanzi di grande forza emotiva ha scoperto l'abisso sottostante, il nostro illusorio senso di connessione con il mondo. Nato a Nagasaki nel 54, Ishiguro si è trasferito con la famiglia in Inghilterra nel 60, un soggiorno che da temporaneo è diventato definitivo. Nel 2008 il Times l'ha incluso fra i 50 più grandi autori britannici del 45, tutti i suoi romanzi sono tradotti in Italia da Einaudi.